La seranda è passata. Salve, mi presento, sono Lord Heavy, capo di tutte le mezzi più usate del momento. Sto preparando il complotto più temibile che il vostro pianeta abbia mai vissuto. Allora, al mio segnale cadrai sotto il mio controllo. E io... C'era della testina cosa. Che è successo? Non puoi. E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo intercettare la telefonata. Incredibile. I meme stanno conquistando anche il web. La situazione sta degenerando. Lord, ho provato a intercettare la telefonata. Com'è andata? Ho avuto la divisione. So dove trovarmi. Oh, c'è arrivato. E' già arrivato. E' già arrivato. Tu finissi un giorno? Ehi, aspetta un attimo. A me sta cosa mi sembrava quella vissuta. No. Oh, compagno. La faccina era pezzata del tuo muro. Ma là perché non andiamo nella scala a fare la linea condominiale? E che so, Giulio. Oh, Giulio. Benzionnavo che ti chiamamelo all. Sperché tu non ti chiami Cereal. It's my life ophyllal is like an open highway My freaky said I did it my way ho microscopic lived a lie It's my life